Musica Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, il format dedicato all'attività del Consiglio regionale. Allora subito i titoli di questa puntata. La Toscana e la crisi di governo, misure a sostegno dei lavoratori dello spettacolo, mozione in favore dei circoli ricreativi e sociali, trasporto pubblico, nuova affermata del Frecciarossa a Terontola. Musica Io mi auspico che lo Stato possa ritrovare saldamente una capacità di governo con quelle che saranno le iniziative per costituire il governo preso dal Presidente della Repubblica nei prossimi giorni. La nostra maggioranza in Toscana è stabile, procede con rispetto dei programmi, una sintonia fra le forze politiche che sostengono questa maggioranza molto forte. E quindi sono contento dell'autorevolezza e della stabilità che la Toscana può assicurare in un quadro nazionale oggi precario. Anche se, ripeto, auspico presto il rientro in carica di un governo che possa assicurare questa condizione di iniziativa che una fase così delicata di emergenza sanitaria, economica, sociale può assicurare. Spero che nel governo comunque si ricomponga la presenza e la forza della Toscana sia sempre più forte perché sappiamo, l'abbiamo visto, c'è grande bisogno. Siamo stati eletti pochi mesi fa dai cittadini della Toscana con un risultato importante. Stiamo governando in maniera ottima, abbiamo un tasso di vaccinazione sul numero di vaccini ricevuti elevatissimo. Siamo riusciti a riaprire le scuole, non era scontato e l'abbiamo fatto migliorando il trasporto pubblico locale consentendo alle ragazze e ai ragazzi di poter rientrare nelle scuole. Abbiamo aperto i musei in sicurezza. Insomma c'è un'azione di governo della regione molto importante. Penso che noi dobbiamo ragionare di questo. Poi viviamo in un mondo più grande e quindi di conseguenza quello che accade a Roma lo guardiamo con attenzione. Io penso che noi dobbiamo attraverso, con il programma con cui ci siamo candidati ai cittadini, chiedere anche ad altre forze politiche se sono disponibili a darci la fiducia su quel programma. Non è il contrario. Noi dobbiamo lavorare perché quel programma con cui siamo stati eletti venga portato in fondo. Per cui ben venga un ragionamento con il Movimento 5 Stelle, sapendo però che si parte dal programma con cui abbiamo vinto le elezioni e con cui i cittadini ci hanno chiesto di governare la nostra bella regione. Escludo su ogni livello il fatto che ci possa essere una ripercussione in ambito toscano della crisi di governo nazionale. Qui è un'altra storia. Tre mesi di governo regionale. Le cose le abbiamo promesse, le abbiamo fatte. Noi abbiamo messo la faccia con il nostro governatore Eugenio Gianni, l'abbiamo sostenuto, abbiamo vinto le elezioni, c'è un impegno preso con i cittadini toscani. Le cose si stanno facendo. Abbiamo riaperto le scuole, abbiamo approvato un bilancio, abbiamo fatto delle azioni tempestive per contrastare il Covid. Abbiamo avuto coraggio di governare insieme. La coalizione è salda e forte. C'è rispetto reciproco. E soprattutto c'è un impegno preso con i cittadini. A Roma la cosa è diversa. Abbiamo lo stesso Presidente del Consiglio che ha pensato di provare a governare con tre maggioranze differenti in tre anni. Qui c'è un Presidente della Regione eletto da cittadini toscani che noi abbiamo sostenuto e verso i quali abbiamo preso un impegno concreto mediante le elezioni che si sono svolte soltanto tre mesi fa. Noi siamo molto preoccupati che all'interno di questa compagine di governo, della quale naturalmente noi non facciamo parte e che tutti i giorni con proposte incalziamo, possa uscire Italia Viva e possa entrare il Movimento 5 Stelle portando il governo della Regione Toscana e il governo più a sinistra nella storia di questa Regione. Naturalmente noi continueremo dal Consiglio regionale a portare le nostre idee, le nostre proposte, a fare un'attività incalzante di opposizione, ma credo che non interessi quello che noi denunciamo. Credo che interessi ai cittadini quello che noi proponiamo, a partire dall'abbattimento delle tasse, da un piano vaccinale che prevede la vaccinazione immediata di alcune categorie. Penso da un lato ai malati cronici che sono esclusi dalla prima fase vaccinale, malati oncologici, malati cronici, malati cardiopatici, e dall'altro per esempio il personale dell'insegnante e dei docenti, che consentirebbe per i nostri ragazzi di andare in estrema sicurezza a scuola. Penso ai medici odontoriatrici che sono stati esclusi ma che sono invece in prima linea. Pensiamo alle forze dell'ordine. Ecco, questa è Forza Italia, una forza positiva, propositiva, che porta le sue idee anche in Consiglio regionale. Ovviamente, come abbiamo sempre detto, non ci sono automatismi, sarebbe sbagliato. Qui abbiamo una coalizione che si è presentata alle elezioni, ha presentato un programma, è stata premiata agli elettori, e noi su quello ci misuriamo. Ovviamente quello che succede a Roma nel momento in cui ci sono divisioni non aiuta, ma sarebbe errato produrre degli automatismi, invece noi dobbiamo fare quello che auspico anche possa riprendere a Roma, concentrarsi sulla soluzione dei problemi dei Toscani e della Toscana con due priorità, la salute e il lavoro. L'unica strada percorribile che potrebbe riportare la scelta nelle mani degli italiani, e vi ricordo che le elezioni in Italia non sono un vizio di forma. Le elezioni in Italia sono stabilite all'articolo 1 della nostra Costituzione, la sovranità appartiene al popolo che l'esercita attraverso le elezioni. Quindi andare a votare non è un qualcosa di astratto, un qualcosa da evitare a tutti i costi, è la via più naturale. Purtroppo la politica italiana negli ultimi anni ci ha abituato che le elezioni vanno accuratamente evitate, soprattutto quando si ha paura di perderle, quindi sicuramente le eviteranno anche questa volta e il teatrino a cui abbiamo assistito avrà avuto soltanto il compito di paralizzare e ingessare per due settimane il Paese. Vi posso dire che Fratelli d'Italia sta all'opposizione e starà all'opposizione qualsiasi cosa accada a livello nazionale, e starà all'opposizione di qualsiasi governo nasca non dalle urne a livello nazionale e lo farà in Toscana. Semmai il problema è di chi fino ad oggi ha fatto finta di fare opposizione e si ritrova in maggioranza, oppure chi ha fatto finta di fare la maggioranza e potrebbe ritrovarsi all'opposizione, ma non è un problema di Fratelli d'Italia. È una crisi incredibile che ha un nome e un cognome e soprattutto un partito politico che in questo momento ha causato una scellerata crisi e che ha il suo epicentro qui in Toscana. E questa è Italia Viva, che è stata costituita da Matteo Renzi. E questa crisi non ha delle ragioni, ha soltanto purtroppo delle conseguenze che sono molto gravi in un momento in cui la crisi economica e la pandemia ancora mordono il Paese e se ne devono assumere tutte le responsabilità. In un sistema politico normale sarebbe inevitabile che Italia Viva venisse messa all'angolo dall'attuale maggioranza e gli venisse chiesto conto anche in Regione Toscana di quello che sta succedendo al Governo nazionale. Perché le conseguenze che vanno dal recovery fund, dalla gestione della pandemia e della crisi economica le subiremo anche in Toscana e sarà colpa di questa componente della maggioranza. Io spero che ci sia una presa di atto forte da parte loro nei confronti di questa forza politica. Noi speriamo sempre che la Regione Toscana possa cambiare colore e possa anche cercare di portare soluzioni alternative. Non credo che la crisi di governo abbia ripercussioni sulla Toscana se non tra i vari alleati del PD. Italia Viva e Cinque Stelle che comunque si contendono il ruolo, il posto in maggioranza. Certo il centro-destra con la Lega Capofila che sappiamo avere la maggior parte dei consiglieri all'opposizione farà quello che ha fatto in questi anni un'opposizione costruttiva cercando di portare temi e cercando di dare soluzioni. Ci dispiace in questo senso che Gianni abbia smesso di dialogare con le opposizioni aveva iniziato a farlo pur nelle nostre diversità abbiamo avuto a inizio legislatura un dialogo con Gianni a cui noi abbiamo detto che eravamo disponibili ad affrontare i temi che servono alla nostra regione ai nostri cittadini dal punto di vista sanitario ma anche dal punto di vista economico Gianni ha smesso di parlare con l'opposizione. Quindi ci sono state di nuovo chiuse le porte come le abbiamo trovate sempre chiuse con Enrico Rossi adesso il PD si sta comportando nella stessa maniera che abbiamo visto nella scorsa legislatura questo un po' ci dispiace perché pensiamo di poter dare un grosso contributo e crediamo che la Toscana e i cittadini toscani abbiano bisogno delle idee di tutti non c'è differenza di colore quando si parla di attività economiche che rischiano di non riaprire o di artigiani che non sanno se sopravviveranno noi pensiamo di poter lavorare e lavorare bene ecco vorremmo essere ascoltati un po' di più La mia commissione e anche io personalmente stiamo facendo una campagna di ascolto degli operatori del mondo dello spettacolo perché è una categoria che ha subito un forte danno dalle misure restrittive inevitabilmente dalle misure restrittive dovute al covid e nell'ascoltarli sono emersi alcune criticità che la legge nel suo impianto originario diciamo non risolveva uno era quella dei codici a teco come elemento di requisito dei partecipanti alla richiesta di contributo e l'altro era questo questo massimale veramente basso poi vedremo perché se saranno molti è chiaro che la cifra potrà essere anche molto inferiore ma darci la possibilità di alzare un minimo fino a 3.000 euro il contributo ci sembrava doveroso il punto dei codici a teco invece è fondamentale perché molti degli operatori del mondo della cultura non hanno il codici a teco e si tratta di attività che hanno una forte riconoscibilità sono lavoratori impegnati nell'ambito dello spettacolo che non necessariamente hanno dei percorsi di riconoscimento giuridico formale come altre attività quindi questo ci sembrava importante un altro elemento di correttivo un'altra menda che abbiamo fatto al test originario è stato l'inserimento del riferimento alla creatività toscana non soltanto alla identità culturale diciamo così tradizionalmente intesa il mondo dello spettacolo il mondo della cultura il mondo dell'arte il mondo della creatività ha subito sicuramente un anno difficilissimo per questo il Consiglio regionale della Toscana ha deciso di mettere un milione di euro a disposizione di tutti quei protagonisti di questo mondo però ha cercato di chiedere uno sforzo anche a loro ovvero di portare un contributo progettuale nel valorizzare l'identità toscana noi siamo fortemente convinti che la Toscana abbia un pozzo di petrolio non in ogni città ma in ogni singolo borgo in ogni piccolo paese che è rappresentato appunto dalla bellezza dal bello e per questo siamo molto felici che la regione toscana impegni un milione di euro per valorizzare tutto questo per regalare ai nostri figli un patrimonio culturale artistico spettacolare di un milione di euro che potrà essere utilizzato anche nelle scuole appunto per valorizzare per difendere e supportare questa identità toscana che è uno degli aspetti più belli di questa regione insieme al collega Sostegni abbiamo approvato una mozione nella quale chiediamo a tutti gli attori soggetti istituzionali dal Presidente al Consiglio alla Giunta agli Assessori anche in conferenza Stato-Regioni di attivarsi perché il Governo metta una pezza direi io e consenta ai circoli ricreativi di dare ai propri soci la somministrazione di bevande e di alimenti questo per due motivi primo perché chiaramente anche attraverso questo momento di ulteriore socialità si si dà sostenibilità a queste strutture che negli anni in questa Toscana hanno davvero scritto un pezzo di storia naturalmente privare circoli di somministrare cibo e bevande rende meno sostenibile anche l'accendere la luce il sostenere quelle spese che comunque ci sono ci ha sorpreso un po' l'atteggiamento della minoranza in Consiglio regionale che ritiene questi non un presidio del territorio noi riteniamo che siano l'idea è stata quella di allora apriamo anche ristoranti e bar la sera certo noi siamo perché se le condizioni pandemiche lo consentano riparta tutta l'attività economica del nostro territorio non è una concorrenza sleale quella dei circoli è solamente non volevamo farla passare per questo ma solamente ridare fiato a un sistema di comunità nella quale crediamo molto oggi è arrivata la notizia dall'Umbria guidata dalla governatrice Donatella Tesei che finalmente è ufficiale la fermata a partire da febbraio delle frecciarosse la mattina presto per Milano anche nella mia Toronto la stazione di Toronto la Cortona proprio la mia città è un gran bel segnale ecco di ripartenza abbiamo bisogno ecco veramente di crescere anche sotto il profilo dei trasporti e siamo veramente certi che sarà veramente un motivo di ulteriore soddisfazione vedere ecco questi treni partire la mattina presto frecciarossa da Terontola per Milano ecco veramente una grande soddisfazione ricordo di ecco essere stato nello scorso gennaio del 2020 a Perugia poi per parlare con l'assessore Enrico Melasecchie ci è voluto un anno però la battaglia l'abbiamo vinta una battaglia importante pensate tutti il frecciarossa ferma anche a Terontola a Cortona ed è tutto questa era la nostra ultima intervista a cronache e commenti torna la prossima settimana grazie a tutti Grazie a tutti.